La Rosanna gli addarite, lui gli fa le riprese, lui non lo conosceva. Cascondologia cultus. Tempo totale 196. A Pairello Di Leonardo Monare. Primo? Derto. Sentro l'esercizio. Grazie. 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 Applausalo. Abbassalo. Grazie. 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 Buono per l'olio con lo stupo. Ah, ma senti... Allora è il legno. Ok. Abbassalo. Adesso basta. Grazie. La medaglia, la medaglia gliela dava? La medaglia? E' un setto a costa? E' un setto a costa? E' un setto! E' un setto! Bravo! Guarda come vuole! Oh, davvero! Primo gratificato, Daniela Massi, con 2,36 e 44, lo setto da Riggi con 8! Bravo! Bravo, Otto! Bravo, Otto! Io pure la foto, Otto! Tieni, non stai? Chiappa le prana! Otto! Otto, lui! Attrava la foto, Otto! Otto, Otto! Aspetta, eh! Otto! Otto, chi è? Otto, vai! Otto! Otto, Otto! Bravo! 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 Sì, sì! Voglio dire! Sempre proprio così! Ecco la categoria, Temur, festa classificata, col primo ruolo, Luca, meccante, con Bruna! Bravo! Ecco così, lo sta, lo sta e sarà la menù, sai un bello antipasto, un bello antipasto che sta a fare, Bruna che la paggiano la fa, Bruna? Bruna, va per la moto, Bruna, Bruna, sta a fare la foto, Bruna, Bruna, sta a fare la a fare la vista, Bruna, ma non è Alco, è un guane, è un guane, è un guane, è Grazie. Duna, Duna, Duna. Duna, 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 Duna. Duna, 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 Duna. Duna, 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 Duna. Duna, 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 Duna. Duna, 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 Duna. Grazie. 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 Eccola, vai! Grazie a tutti. Ciao! Grazie a tutti! E Alex, e Alex! Vieni qua! No, vieni qua, vieni qua, con sempre la foto. Vieni qua, con sempre la foto. Pronti, pronti, guarda qua. Ciao. Stringila, faccia il nodo dietro. Allora, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Grazie. 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 Aspetta. E Shero ha questo con la pettorina e il guinzaglio mimetico. Che io mettiamo così. Ok. Perfetto. Vado un pettreno solo loro. Vieni qua. Vai. Dite banana. Banana.